Ha sonnecchiato sottoterra in esplosa per oltre 70 anni. Ora però, domenica 4 dicembre, deflagrerà tramite un brillamento controllato la bomba d'aereo della Seconda Guerra Mondiale, trovata il 18 ottobre scorso in strada Montefeltro, dove ci troviamo ora. Un ordigno bellico che si trova alle nostre spalle, si intuisce anche oggi, venerdì, dall'assetto militarizzato con l'esercito che provvede alle operazioni propedeutiche alla bonifica dell'area interessata dalla bomba e al successivo disinnesco di domenica. Ci troviamo infatti a due rotatori dal casello autostradale di Pesaro in una zona molto trafficata in orario feriale lavorativo. Zona che invece si presenterà desertica domenica mattina, quando gli unici esseri umani che potranno circolare saranno gli artificieri dell'esercito, artificieri del genio militare di Castelmaggiore di Bologna, che si occuperanno delle operazioni di disinnesco e di trasporto della bomba nell'area in cui verrà fatta brillare. Si tratta degli stessi artificieri che un mese e mezzo fa furono allertati nel momento in cui gli operai dediti agli scavi propedeutici alla realizzazione della cosiddetta bretella gamba, si imbatterono in quell'ordigno di 450 kg di fabbricazione americana ancora armata di spolette in attività. E dunque quella del 4 dicembre sarà una domenica davvero in assetto militarizzato. Già dalla scorsa settimana la prefettura di Pesaro ha comunicato il piano di evacuazione che interesserà circa 900 residenti della zona, in particolare quelli delle quartiere di case bruciate. Dovranno infatti essere lasciate obbligatoriamente le abitazioni nel raggio di 750 metri al luogo del ritrovamento della bomba e al percorso dell'ordigno verso il luogo del brillamento. Le operazioni di evacuazione dei residenti andranno completate fra le 6 e le 8 di mattina con un rientro nelle abitazioni previsto per le 15 ma che potrebbe anche essere anticipato. Fra le 8 e le 9 forze di polizia e protezione civile perlustreranno come le zone in questione siano effettivamente deserte e attorno alle 9 gli artificieri procederanno con le operazioni di bonifica e disinnesco. La maggior parte degli evacuati troverà sistemazione per 7 ore da parenti e amici ma per chi non saprà dove alloggiare è stato predisposto un centro d'accoglienza alla Vitri Frigo Arena che sarà aperto dalle 7 del mattino con servizi igienici e fornitura di bevande. Circa una decina di soggetti fragili che saranno evacuati verranno invece ospitati nella struttura sanitaria di Galantara mentre i soggetti positivi al Covid che sono attualmente in isolamento saranno trasportati dal 118 presso la clinica Santo Stefano di Macerata Feltria. Case evacuate e strade chiuse. Strada Montefeltro sarà interrotta per 5 km fra Borgo Santa Maria e la rotatoria della concessionaria Lazzarini e ricordiamo soprattutto la chiusura del casello autostradale di Pesaro così come sarà interrotta la circolazione in A14 nel tratto compreso Frafano e Gabiccemare. Gli artificieri dureranno all'incirca 3 ore tra disinnesco, trasporto e brillamento della bomba in strada stroppato presso la ex cava della Pica.